Simona aiuto! Oddio che succede? La mia cellulite è fuori controllo! Ma è proprio così grave? Fammi vedere. Ma guarda sono sommersa dai cuscinetti! Ciao amiche, come sarebbe bello svegliarsi un giorno ed essere finalmente libere dalla cellulite! Ah sarebbe un sogno ma la realtà è un incubo! Oggi voglio parlarvi di come ogni donna può eliminare la cellulite a casa propria senza dover dipendere da nessuno, senza bisogno di creme, trattamenti estetici, diete punitive o allenamenti esternati. Per chi non mi conosce ancora sono Simona Vignali, da oltre 25 anni sono naturopata ed esperta di bellezza olistica e naturale. Ho anche creato un mio metodo pensate che si chiama estetica olistica, di cui ho scritto due libri. In questa serie di video vi ho promesso che vi avrei spiegato oggi come eliminare la cellulite in modo 100% naturale, senza perdere tempo, soldi e speranze in proposte costose che non funzionano. L'argomento è decisamente hot per moltissime donne, infatti ho ricevuto moltissime domande. E volete sapere qual è stata la più ricorrente? Ma questo metodo funziona anche contro la mia cellulite, che oramai è vecchia, ostinata, resiste a tutto, secondo me la troveranno anche lì tra 200 anni. La risposta è sì, ma adesso sfatiamo subito un falso mito, ok? La cellulite non è una condanna genetica, non è come il colore degli occhi dove madre natura dice tesoro tu avrai gli occhi sempre blu e che ti piaccia o meno blu li devi tenere. Con la cellulite è diverso, se non ti piace la puoi cambiare con una bella pelle liscia e tonica. La buona notizia? Con il mio metodo non devi certo faticare come le modelle delle riviste e nemmeno rivolgerti a photoshop come fanno loro in realtà poi alla fine. Grazie ai miei studi approfonditi sulla fisiologia e il funzionamento della cellulite ho creato un metodo sinergico che elimina la cellulite alla radice. sinergia come quando lavoro in team con le mie amiche per creare un aperitivo epico? Brava, questa è una bella spiegazione, sì ci sta. Centinaia di donne lo hanno già provato e hanno ottenuto ottimi risultati per la cellulite. Ma come si chiama il metodo? Il metodo si chiama sistema Cellulift, un nome, un programma. Ma che cos'ha di diverso il tuo metodo dalle altre strategie anticellulite? Lo spiego volentieri. C'è chi sostiene che con la cellulite ci si nasce o peggio ancora che noi donne ce la dobbiamo proprio tenere. O ci sentiamo dire che per combatterla bisogna usare tante creme, chili di creme oppure cicli infiniti di trattamenti estetici. Ma contrariamente a quanto ci fanno credere le creme e i trattamenti non possono risolvere il problema alla radice danno risultati momentanei se mai ne danno. Quindi lo dico chiaro e tondo, sulla cellulite è una vita che ci mentono. Ma e allora cosa dobbiamo fare? C'è una cosa più importante ed è la chiave fondamentale su cui si basa il sistema Cellulift. Seguitemi bene, la cellulite è un disturbo infiammatorio sistemico. Cosa vuol dire? Che si presenta localizzata in certi punti, ma il nostro corpo è un sistema unico, giusto? La circolazione del corpo è tutta collegata, non è a compartimenti stagni, la circolazione solo nelle braccia, la circolazione solo nelle gambe o nella pancia. E ci hanno mentito sulla cellulite perché vogliono farci credere che spalmando delle creme in punti localizzati o facendo un massaggio solo in certe zone si possa agire in modo globale. Ma se non si agisce migliorando la circolazione nella sua globalità non si può neanche togliere l'infiammazione da tutto il corpo. Ma non solo, senza eliminare le tossine che sono incapsulate proprio nei tessuti insieme alla cellulite, facendo magari un buon drenaggio, i cuscinetti restano sempre lì. Ma allora il segreto è combattere l'infiammazione e fare drenaggio se no le culotte di cheval non se ne vanno? Esatto, solo una strategia ben combinata e molto specifica può eliminare la cellulite, i cuscinetti e eliminare il gonfiore diffuso. La gioia e la gratitudine delle persone, delle amiche che hanno seguito questo metodo in presenza, mi ha motivato a creare un metodo che può essere seguito online da casa. Ecco i cinque pilastri del mio sistema che fanno veramente la differenza. Attenzione, non li trovate da nessun'altra parte in questa sinergia, vi assicuro, e io li ho inseriti tutti nel mio video corso. Alimentazione, esercizio fisico, stile di vita, automassaggio e tecniche anti stress. E come è strutturato il corso? È molto semplice, si accede online anche dallo smartphone e ci sono diversi video, ovviamente esclusivi, che non si trovano qui su YouTube. Un video speciale sull'alimentazione anti-infiammatoria contro la cellulite, i miei rimedi naturali selezionati nel tempo e lo stile di vita da mettere in pratica tutti i giorni per combattere la cellulite, la routine di esercizi specifici contro la cellulite che puoi seguire direttamente guardando il video a casa, l'automassaggio guidato dalla mia voce con le manualità specifiche che rompono la cellulite e la tecnica di rilassamento guidata che elimina lo stress, quindi riduce il cortisolo, l'ormone nemico della cellulite. Tutto questo da organizzare e alternare nei vari giorni della settimana secondo il proprio tempo per poter seguire un programma veramente completo. Con queste strategie in sinergia, come vi ho detto, già centinaia di donne hanno eliminato la cellulite in tempi veramente brevi, in tempi record. E questo le ha permesso di cambiare non solo l'aspetto ma anche l'approccio alla vita. Vedersi meglio con le gambe più snelle, la pelle più liscia e tonica le ha fatte sentire più a loro agio e ha aumentato l'autostima. Insomma hanno ritrovato l'entusiasmo, la voglia di volersi bene e anche di meritare di più per loro stesse. È vero, mi sento già piena di speranza e libera dai cuscinetti. Trovate tutto nel link qui sotto, mi raccomando andate a vedere e scoprite questo fantastico mondo del cellulite dove ho messo tutta la mia passione e tutto il mio impegno per liberare le donne dalla cellulite. È una rivoluzione anticellulite. Bene, noi ci vediamo nel prossimo video. Altre notizie sulla cellulite presto qui. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!